e allora amici di calcio pazzo intanto iniziamo col dire che ogni volta che Lazio e Atalanta si incontrano escono fuori belle partite perché comunque sono due squadre che giocano un bel calcio che fanno un'ottima circolazione di palla cioè comunque è un gioco arioso è un gioco piacevole a vedersi tra l'altro sono squadre che comunque hanno tante soluzioni offensive possono farti male in tanti modi e allora dove sta la differenza quantomeno che è emersa stasera ma credo che sia anche una differenza in generale cioè proprio una differenza sostanziale tra le due squadre e torno a ripetere chiaramente questo sarà poi un qualcosa che ti dirò ogni settimana del tipo che l'Atalanta come ho detto non può più nascondersi l'Atalanta è una pretendente per lo scudetto perché l'Atalanta ha comunque qualità ecco dove che è stasera dove che è vista la differenza e dove anche in generale comunque le due squadre è proprio nella qualità dei singoli perché l'Atalanta ha dei giocatori pazzeschi che hanno raggiunto una maturità tale qualità tecnica già ce l'avevano ma unita alla maturità viene fuori una squadra pressoché perfetta chiaramente l'apice l'apice di questa squadra è il Papu Gomez Papu Gomez ormai veramente lo possiamo considerare un top player a livello europeo se non mondiale io direi anche mondiale perché considerando che comunque è un giocatore ex europeo visto che è argentino lo possiamo tranquillamente considerare un top player a livello mondiale perché fa delle giocate pazzesche se non sbaglio terzo quarto comunque già sta segnando con una certa regolarità anche a livello di assist per cui parliamo di un giocatore pazzesco che gioca a tutto campo gioca a tutto campo ma anche sul fantacarcio mi sembra che te lo danno chiaramente centrocampista ma siccome nell'Atalanta ci si muove tutti non si sta fermi un secondo c'è un'interscambiabilità di ruoli che è pazzesca e credo che soltanto l'Atalanta in Italia faccia un'intercambiabilità appunto di questo genere e questo che cosa le consente intanto mi sono impadato tutto qua perché leva il wifi e questo che cosa le consente di avere appunto una rosa ancora più ampia di quella che c'ha perché appunto e infatti e infatti non è la prima volta che succede quando c'è un giocatore ammonito chiunque esso sia Gasperini alla fine del primo tempo lo prende e lo sostituisce perché tanto non va a variare di nulla cioè resta una cosa in equilibrio non c'è stanno giocatori più forti di altri tranne voglio dire quei 2-3 che chiaramente emergono ma non c'è stanno giocatori che sono talmente più forti di altri per cui li puoi sostituire tranquillamente però ripeto nella partita di questa sera probabilmente questo divario non c'è non c'è perché comunque l'Atalasio si è divorata dei gol ma è proprio lì appunto la differenza che l'Atalanta col suo cinismo quando gli è capitata l'occasione l'ha fatti tra l'altro poi c'è questa caratteristica che so i due tersini che sono le due ali e spesso ma non è una cosa di adesso è una cosa di anni spesso uno diventa l'assistman dell'altro cioè Atebor per Gosens e Gosens per Atebor quindi credo che sia questo perché poi ripeto l'Atalasio c'è avuto occasioni salvataggi sulla linea immobile che si presenta davanti al portiere esce poco così altri tiri ribattuti sportiello insomma il risultato sarebbe anche bugiardo ma la qualità poi è quello che fa la differenza che ti fa vincere le partite che ti fa ottenere dei risultati importanti durante una stagione e se una squadra c'ha più qualità è giusto che poi vinca la partita basta io questo è quello che vedo vedo lì ho cercato di essere il più sportivo possibile però consentitemi di dire una cosa spiazze